Polemiche dopo l'ultimo consiglio comunale di Agropoli del 29 marzo. Il consigliere di minoranza Agostino Abate comunicherà al prefetto di Salerno e al ministero degli interni una irregolarità adottata nei suoi confronti. Quando il presidente e il segretario generale scrive Abate sul suo blog con una interpretazione del tutto soggettiva, mi hanno impedito di parlare dopo la comunicazione preliminare del sindaco che riguardava la revoca dell'assessore dottoressa Elvira Serra e la nomina del nuovo assessore dottoressa Giovanna D'Arienzo. La revoca di un assessore si perfeziona ed acquista efficacia con la comunicazione motivata al consiglio comunale articolo 46,4 del TUEL 267-2000. Non per questo può mai sostenersi che il consiglio debba necessariamente limitarsi a prendere supinamente atto della revoca. Ne scaturisce in modo evidente ed elementare che il consigliere comunale può prendere almeno la parola dopo la comunicazione del sindaco. Il presidente del consiglio comunale di Agropoli dopo consultazione con il segretario generale ha invece ritenuto di inibire ogni mio intervento in quanto a suo dire l'articolo 50 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale gli conferiva tale possibilità ed egli la voleva fermamente esercitare. A nulla sono valse le mie contrarietà e le mie dettagliate motivazioni di non sussistenza di tale facoltà in ordine ad una comunicazione obbligatoria che scaturiva dall'applicazione di un disposto normativo superiore a quello del regolamento richiamato. Ho interesse a comunicarvi che l'articolo 53 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Agropoli prevede espressamente che, concluse le formalità preliminare, come da articolo 43 del presente regolamento, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti ed attività di particolare attualità ed interesse, anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo, è perciò evidente che perfino il nostro regolamento locale prevede che sulle comunicazioni c'è facoltà di intervento. Intervento, conclude Abbate, che mi è stato arbitrariamente inibito dal presidente del consiglio comunale di Agropoli.